va bene allora sbaglio di clip allora prima vi dico già macro macro sono sincero macro ma dai ma che chiama i permessi me dai permessi solo solo macro poi macro david mi puoi dare i permessi guarda vieni vieni qui vieni vieni in questo bravo ti ho fatto fluttuare almeno guarda vieni eh no stavolta mi ci sono riusciti però questo lo so fare benissimo eh no se dito così velocemente però va a finire come l'altra volta cioè mi crescio il gioco ciao 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 ciao